I feel like a lion, I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun, I feel like a energy is going inside my mind, easy, I'm so fun. Ciao, sono Francesco Manerba. La mia azienda si chiama Cargomme SRL, si trova a Castel Goffredo, in provincia di Mantua. Il nostro è un negozio di gommista, quindi ci occupiamo di acquisto e vendita di pneumatici e prodotti derivati tipo ruote in lega e sensori TPMS e servizi attenenti alla nostra attività, cioè equilibratura, convergenza, riparazioni, eccetera, eccetera. I'm so strong, bring me the legacy. Collaboriamo con Orange Electronic dal 2014. Ci troviamo molto bene, abbiamo un rapporto di collaborazione, facciamo dei test su delle vetture nuove e partecipiamo a dei corsi. Si, vorrei mandare un saluto a tutti quelli che vedranno questo video e vi invito a venire nel nostro punto vendita per qualsiasi esigenza e per vedere come lavoriamo. Grazie. Grazie.